Io sono felice così, anche perché c'erano anche altre opportunità, ma io ho scelto di venire qui anche perché è stata la società che penso abbia dimostrato più fiducia in me. Dopo una stagione come la scorsa, dove non ho avuto la possibilità di giocare, ho avuto tanti problemi, credo che sia un grosso attestato di stima nei miei comporti da parte loro. Quindi dubbi non ci sono stati. Adesso sono felice di stare qui e spero di ripagare sul campo tutta la fiducia e la stima che hanno avuto nei miei confronti. L'anno passato mi sono fratturato il quinto metatarso e il ritiro al Palermo, all'inizio del ritiro. Poi quando sono rientrato ho avuto una rigatuta, sono stato fermo ancora, poi sono andato a Torino, ho giocato e ho avuto un'altra rigatuta. Quindi ho dovuto fare un altro intervento e adesso per fortuna è tutto a posto e sono pronto per partire per il ritiro. Io sono nato come centrale, perché anche nel settore giovanile è sempre difesa a tre con centrale, però lì ho giocato sempre anche a centro-sinistra, a centro-destra. Nel senso che i tre ruoli vanno bene. Diciamo che nel passato, quando c'è stata la possibilità, ho dimostrato di poterci stare, nel senso l'anno del 21. Quindi io sinceramente non ci penso adesso ad un obiettivo così grande, però credo che se poi il campo riesca a dire il mio valore, nel senso che io riesca a esprimermi al meglio potrebbe essere una conseguenza di un buon campionato fatto con il Genova. Però sinceramente io adesso ho solo voglia di ricominciare, perché vengo da un anno brutto, ho voglia di giocare e di fare il massimo per il Genova. Poi quello che viene dopo è in più, diciamo. Io adesso voglio soltanto giocare e fare il massimo per questa squadra. Avrei voglia di fermarmi in una squadra e starci il più tempo possibile, perché sono cinque anni che ogni anno devo cambiare città. È bello, però allo stesso tempo vorrei una squadra dove poterci stare per tanto tempo. Noi per ora abbiamo fatto solo cinque anni di contratto.